Musica Ho qui con Gennaro Rizzo, mister, un'altra ottima prestazione in trasferta dopo quella con la Magic di due settimane fa, anzi tre settimane fa Sì, una bella partita, giocata con molta tattica, faccio i complimenti a Marco per la squadra, per l'accoglienza, sono tutti amici, è stata una bella giornata abbiamo lavorato duro in questo periodo di sosta e venivamo dalla scoffitta in casa secondo me immeritata con il Saviano e avevamo voglia di riscatto e così è stato Si può dire che l'LPG ha recuperato Visconti oggi? Sì, dopo un periodo di appannamento oggi è ritornato il Visconti che conosciamo, ma è sempre stato partecipe a tutti gli allenamenti, a tutte le partite mancava un po' di brillantezza, a volte la vita anche personale influisce, magari ha lavorato un po' di più, magari era un po' più stanco però ha lavorato in questo periodo, ha lavorato bene, si è ripreso e sono felice sia per lui sia per il risultato acquisito Tra sette giorni arriva il club Paradiso Cerra, che gara ti aspetti e soprattutto anche spegni due parole per Giovanni Abbato? Per quanto riguarda il club Paradiso Cerra, sarò retorico nel ripetermi sempre, mi aspetto una partita dura come questa, intensa dove bisogna guadagnarsi assolutamente i punti perché in questo giro nessuno ti regala niente quindi lavoreremo in settimana per preparare un'altra partita e per cercare di portare a casa i tre punti Per quanto riguarda Giovanni Abbate, Gianni per me, qualcuno mi accusa di avere un pupillo nella squadra, nella società per me Gianni è un fratello minore, oggi e domani che finirò di allenare o che Gianni non giocherà più, resterà tale è un ragazzo che ha bisogno un po' più degli altri di avere qualcuno accanto che lo aiuti, che lo guidi e che lo faccia capire che bisogna andare avanti perché già ne ha avuto veramente un problema grosso Siamo qui con Marco Russo, tecnico del Cusso e misteri, comunque nonostante il risultato è un po' più ampio, è stata un'ottima prestazione del Cusso Napoli Sì, fino al 2-2 siamo stati in gioco, penso che abbiamo retto l'urto dell'LPG ai quali vanno i miei complimenti sia a Gennaro Rizzi che a tutti i giocatori perché hanno fatto veramente un'ottima partita e i miei fino al 2-2 non sono stati da meno, un po' di calo fisico, c'erano degli indisponibili tra cui Ciscognetti, Sapio però non ci dobbiamo nascondere da queste assenze, complimenti tanto di cappello a chi ha meritato di vincere questa partita Ha influito l'infortunio di Lauro a fine secondo me? Perché la partita sul 2-2, Lauro aveva giocato benissimo, si è infortunato però la squadra sembrava che negli ultimi 10 minuti avesse staccato un po' la spina Allora i complimenti vanno fatti a Lauro che ha fatto una partita, veniva già da un infortunio ha fatto secondo me 45 minuti mostruosi, mi metto nei panni del secondo portiere entrare a freddo può starci, non esserci al top al 100% però i complimenti vanno fatti a tutti quanti veramente perché hanno fatto secondo me una partita veramente una buona partita Tu sei riduciato alla vittoria del triangolare prof dell'anno scorso, che obiettivi si può oppure questa squadra? Tu che conosci bene la categoria ed in anni sicuramente la salirei anche tu personalmente Allora ho fatto un augurio a Gennaro Rizzo e spero che si realizzi perché l'anno scorso l'ha fatto lui a me quindi spero che... comunque è una squadra che può stare tranquillamente tra le prime tre non ha niente in meno sia alla Saviano che alla Turris Tu le hai incontrate tutte e tre? Dai un giudizio a voi In casa tutte e tre? La Turris ha cinque elementi già pronti per la C1 L'LPG ne ha sei o sette secondo me che ancora devono andare in ruotaggio il Saviano è dipendente da due o tre persone però sono tutte e tre la C2, il girone B ci riserva 100.000 sorprese secondo me sarà giocato tutte e tre alla pari per la C2 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 per la C2